Per me questa è un'occasione di crescita molto importante, io arrivo da due anni e mezzo alla questura di Milano all'ufficio immigrazione per cui il passaggio all'investigativa è chiaramente la realizzazione di un sogno, insomma entro in polizia con l'idea e la speranza di occuparmi insomma proprio di questo, di fare polizia giudiziaria e l'occasione di farla soprattutto nella realtà piacentina la quale sono insediata da tre giorni ma ho già una sensazione proprio di familiarità e di assoluta condivisione e collaborazione da parte dei colleghi è un bellissimo impatto, quindi assolutamente felice, mi aspetto di lavorare, insomma ottenere risultati una squadra molto in gamba, di professionalità, non solo dei colleghi funzionari ma anche degli stessi colleghi che insomma gli operatori della squadra mobile di cui sono dirigente, il dottor Blasco che mi ha preceduto sicuramente ha fatto un ottimo lavoro perché ho trovato una squadra compatta e soprattutto con tanta voglia di fare, per cui spero innanzitutto di essere anch'io trascinante come entusiasmo perché essendo proprio insomma le prime esperienze è chiaro che ho tanta voglia di fare, di imparare da loro allo stesso tempo spero di essere in grado e di poter insegnare anche qualcosa anch'io, per cui è un momento di crescita assolutamente importante che sono felice di vivere in questa questura con un signor questore che mi ha accolto veramente con delle parole che mi gratificano e soprattutto mi danno tanto stimolo e motivazione rispetto a quello che sarà il lavoro che mi appresterò a fare quindi ringrazio anche voi e spero ci sarà occasione di verci spesso Su cosa appunterà prevalentemente nel suo lavoro? Allora sicuramente la prima tappa è quello che accadrà stamani, il primo contatto con la Procura della Repubblica quindi cercare di instaurare subito un rapporto di collaborazione con il procuratore e i sostituti procuratori e chiaramente con le altre forze di polizia soprattutto improntato a quello che è il contrasto ai fenomeni che caratterizzano principalmente questa realtà cittadina e che sto adesso cominciando già ad inquadrare e a studiare assieme ai miei collaboratori, per cui sicuramente poi ci sarà occasione nello specifico e nel dettaglio di dare qualche informazione in più Grazie a tutti Grazie a tutti